Ciao a tutti amici di AVR Magazine Per la video recensione di oggi vi presentiamo tre differenti prodotti che ci arrivano direttamente dallo store di mobilefan.it Vi presenterò dei prodotti per Samsung Galaxy S3 Parliamo della custodia Casemate La Creators con il particolare simbolo di Android La stilo ufficiale di Samsung per il Galaxy S3 ma anche il Galaxy Tab E una serie di 5 screen protector della MFX Andiamo per gradi Iniziamo dal Casemate Mobilefan distribuisce questa custodia della Casemate E' una custodia in silicone E la sua particolarità è proprio questa Deve essere, vedete, in silicone morbido C'è il simbolo, il fantastico simbolo di Android Quindi per i fan spiegatati di Android che possiedono un Galaxy S3 e vogliono una custodia originale La Creators, e questo è il nome della cover, per Samsung Galaxy S3 Ma andiamo a vedere l'inserimento Essendo molto morbida è semplicissimo Non dovrete fare alcuna speciale pressione per inserirlo E come vedete L'accesso a quelle che sono la fotocamera e i due sensori che ci sono Gli auricolari Il tasto del Reset E successivamente il volume Ve lo faccio vedere meglio E il blocco Sono facilmente accessibili E' una custodia molto originale Se non volete prendere delle cover che siano standard di semplici colori Quindi, questa è la Creators della Casemate Distribuita da mobilefan.it Ora vi parlerò del pennino capacitivo originale Samsung Pennino che è comunque solo la funzione di pennino E non è anche una penna Lo potremo utilizzare su qualsiasi dispositivo touchscreen Samsung Quali nel nostro caso il Galaxy S3 Oppure Galaxy Tab o altri dispositivi Anche non Samsung Perché comunque funziona su tutti Essendo un pennino capacitivo Su tutti i touchscreen Vedete, questo è il pennino originale della Samsung Quindi adesso andremo a vedere il suo funzionamento Anche se è originale Naturalmente ci interessa testare quella che è la morbidezza E vi assicuro che è molto morbido della punta Quindi potremo navigare Ad esempio andiamo sul nostro sito di AVR Magazine E anche per dispositivi Android Vi potremo navigare Vedete, con molta semplicità Oppure, tornando indietro Potremo prendere degli appunti Con un memo Come in questo caso Vedete È molto, davvero molto comodo Per chi è abituato ad utilizzare i pennini capacitivi Sicuramente la qualità di un prodotto originale E non è da mettere in dubbio Anche perché lo abbiamo testato E ci ha veramente soddisfatto E anche questo lo trovate sullo store di mobilefan.it Invece qui abbiamo una serie di 5 pellicole protettive Che sono per Samsung Galaxy S3 Abbiamo le nostre 5 pellicole Io già ne ho provata una E come aderenza ci siamo Quindi non abbiamo problemi Su quanto riguarda la qualità Quindi le posiamo qui Troveremo il pannetto Per pulire naturalmente il display Prima di inserirlo È un piccolo dettaglio Vi dico, è un piccolo dettaglio Però questa spatolina è rigida Questa ci aiuterà a togliere le bolle In tanti screen protector Lo trovate flessibile Quindi questo qui lo trovate molto flessibile Invece questa è proprio una spatolina Adatta a togliere le bolle Quando inseriamo la nostra pellicola protettiva Quindi ragazzi Vi ho presentato 3 differenti prodotti Per Samsung Galaxy S3 E che trovate sul sito della mobilefan.it In ordine La custodia Creators Con questo originale disegno Android Lo trovate al prezzo di 24,49 euro Più 3,50 euro Se lo volete far spedire con raccomandato Invece 9,95 euro Se volete che venga spedito con DHL Express Naturalmente non cambiano solo i prezzi Cambiano anche i tempi Perché con la raccomandata Lo avrete in 4-8 giorni Mentre con il corriere naturalmente 24-48 ore Questo vale per tutti gli accessori I prezzi di spedizione sono uguali Invece per quanto riguarda il pennino capacitivo Originale Samsung Il suo prezzo è 18,49 euro Io rametto stesse spese di spedizione di prima Sia 3,50 euro con raccomandata Oppure 9,95 euro con il corriere Invece per ultimo Le pellicole protettive Vi ricordo che è un set D5 La marca di queste pellicole MFX Per chi la conosce già questa marca E il loro prezzo è di 14,49 euro Spese di spedizione Scusate se mi ripeto Ma magari poi qualcuno lo chiede Sono sempre le solite 3,50 euro per la raccomandata E 9,95 euro Per la spedizione con il corriere DHL Express Bene, noi ringraziamo la mobile fan Che ci ha permesso di recensire questi accessori E noi ci rivediamo alla prossima Ciao a tutti Grazie a tutti